Una delegazione di Coldiretti Torino col presidente provinciale Bruno Mecacicci e il segretario di zona Giancarlo Focco ha incontrato il vescovo di Penerolo Monsignor Dario Olivero. L'occasione è stata utile per approfondire i temi del cibo, dell'agricoltura e delle produzioni alimentari. Al termine Monsignor Olivero ha accettato di firmare la petizione contro il cibo sintetico promossa da Coldiretti. A Monsignor Olivero, che ha ricordato con orgoglio le sue origini contadine, abbiamo chiesto del senso cristiano del cibo, il senso del coltivarlo, il senso di produrlo e fare in modo che sia a disposizione di tutta l'umanità. Il cibo è un dono della terra, è un regalo della terra, come tale va percepito con un senso di gratitudine. In più il cibo è una pagnotta di pane e un qualche cosa che ha dentro potremmo dire una fetta di società, perché lì dentro c'è il lavoro di tanti. C'è il lavoro del contadino innanzitutto, ma c'è il lavoro di chi mieta, il lavoro di chi fa la macinazione del panettiere, di chi fa il trasporto, di chi tira fuori il sale dal mare. È incredibile, se uno guarda una pagnotta di pane tu vedi il lavoro di tante persone e quindi c'è la società. Ed è interessante che il cibo è quella cosa che raggruppa un po' la società, nella sua varietà, e non uno o due, ma tante persone. E ci fa capire che la società non è semplicemente un peso, diciamo, mamma mia che c'è la società se fossi da solo, ma ci fa capire che la società è una fortuna, perché noi viviamo grazie alla collaborazione di tanti. Cibo vuol dire condivisione. È interessante, quindi cibo vuol dire un dono della terra, cibo vuol dire collaborazione, cibo vuol dire condivisione. Mangiare insieme vuol dire che si mangia solo condividendo. Se tu arrivi e ti siedi e prendi tutto il vassoio, non sei degno di mangiare con altri. E questo è interessante sicuramente per il modo di vivere. E poi ci vuole anche dire solidarietà, certo. Ci vuole anche dire ricordarsi che tutti siamo poveri, cioè tutti abbiamo bisogno di cibo per vivere, nessuno è autosufficiente. E dunque vuol dire che a tutti deve, per tutti deve essersi del cibo e per quel che dipende da ciascuno di noi, oltre che mangiare e nutrirci, oltre che lavorare e produrre, oltre che coltivare, dobbiamo anche imparare a essere solidali. Ecco, credo che la visione cristiana del cibo sia innanzitutto questo, è chiaro, aggiungendo una cosa per chi è credente, questo vale per tutti, è il cibo che lo dice. Per noi credenti c'è da aggiungere che il cibo è un dono di Dio, come tale va trattato, con estrema gratitudine, con senso di fraternità e quindi col senso di solidarietà. Stare sulla terra, produrre con la terra, favorire la fecondità della terra, vuol dire custodirla. E allora per un cristiano qual è il significato profondo di questo custodire la terra, che insieme all'ambiente naturale è la culla del nostro cibo? Il cibo è un dono della terra, ma la terra è un dono, l'abbiamo trovata, non l'abbiamo fatta noi, questa nostra terra, l'abbiamo trovata, tutti noi siamo nati e l'abbiamo trovata. E dunque ci è affidata, come ogni cosa che trovi, come dono, se qualcuno ti fa un dono, devi imparare a prendertene cura, custodire giustamente. E penso, ormai tante volte lo sentiamo dire, ma dovremmo sentirlo dire ancora di più, la terra sta faticando, ci sono problemi grossi climatici, problemi di sfruttamento esagerato, ci sono gravi problemi e ci sono anche gravi problemi di ingiustizia, di disuguaglianza, quello che il Papa chiama ecologia integrale, che vuol dire rispetto della terra, rispetto degli umani, rispetto della giustizia, credo l'ecologia integrale sia un bel indirizzo di cosa vuol dire custodire la terra. Siamo vicini al Natale, e allora qual è l'augurio del Vescovo di Pinerolo per questo Natale che vede una guerra alle porte d'Europa? Uno dei modi di custodire la terra è renderla abitabile, e la guerra non rende mai abitabile la terra, la rende una tragedia, la rende un posto insicuro, la rende un luogo di male, addirittura di morte purtroppo, e dunque proprio in nome dell'invito di Genesi, di custodire la terra, l'augurio è che gli umani si accorgano che le guerre non hanno mai prodotto nulla di buono in tutta la storia degli umani, e che si convincano che le guerre devono smettere, devono finire, devono finire. L'augurio dunque è che lo capiamo insieme, e per quel che dipende da noi lavoriamo per costruire relazioni e non conflitti, già nel nostro ambiente, poi in rapporto al creato, entrare in relazione, ecco custodire vuole anche dire entrare in relazione, non semplicemente dominare, che davvero il senso delle relazioni tra umani e degli umani con il creato sia davvero migliori, migliori. Questo penso sia il miglior augurio per questo Natale. Grazie a tutti.